Senza residenza, senza famiglia, senza lavoro, senza permesso, senza autobus. Lo hanno scritto sulle magliette, su striscioni e volantini. Lo hanno gridato di prima mattina nel Consiglio Comunale di Sasso Marconi prima di fare il ritorno a Villa Angeli, percorrendo a piedi alla spicciolata La Porrettana. Si tratta di 85 profughi alloggiati presso la struttura nel comune di Sasso Marconi provenienti dall'Africa subsahariana, Guinea, Mali, Senegal, Gambia e Nigeria. Ai nostri microfoni dicono di volere il permesso di soggiorno e i biglietti dell'autobus per poter andare a lavorare ma chiedono anche condizioni di vita più accettabili. Dicono che a Villa Angeli si mangia male, non c'è il condizionatore e che dormono in sé in una stanza. Non c'è la biglietta dell'autobus, così è molto problema per noi. Non abbiamo mangiare bene, non dormire bene, capito? Il cibo non va bene, dormire tante persone in camera, sei persone in camera. Con caldo non c'è il condizionatore? Sì, con caldo non c'è niente in dentro. Sull'episodio interviene duramente la Lega Nord per voce della commissaria provinciale Lucia Borgonzoni e del consigliere regionale Daniele Marchetti. Non può essere tollerato che dei profughi o sedicenti tali si lamentino del tipo di accoglienza che viene loro concessa, dice Borgonzoni. Ci sono troppi, molti bolognesi che non riescono a mettere a tavola tutti e tre i pasti e queste persone si lamentano di ciò che gli viene dato da mangiare, si lamentano di dove dormono, cioè di una splendida villa in un parco secolare. La leghista ricorda infine che il comune di Bologna più di una volta è intervenuto per sanare le multe prese da profughi sugli autobus e che già vengono pagati abbonamenti gratis per il trasporto pubblico ai richiedenti asilo. Marchetti attacca invece la CGL che, secondo il consigliere del Carroccio, abbandona i lavoratori bolognesi per concentrarsi sui capricci degli immigrati.